Ciao a tutti amici e benvenuti in cucina dell'ina. Oggi cosa facciamo? Oggi facciamo delle polpette di zucca. E' ancora autunno, un po' di zucca e noi prepariamo la zucca. Ok, io cuccio mezzo chilo di zucca cotta al forno nel mio caso. Io la faccio al forno perché resta più saborita di quando si fa lessa. Allora mezzo chilo di zucca pulita però, mezzo chilo di zucca, polpa di zucca. Poi cuccio farina di sesi e cento grammi di farina di sesi e cento e cinquanta di farina di avena. La incorporo così, la incorporiamo pian piano, vediamo quanto se ne prende. Ecco, dobbiamo formare le nostre polpette perché risulta abbastanza morbido. Lo vediamo. E un uovo ci metto anche per legare. Ecco, un uovo. Un uovo e un po' di sale. Ok, un cucchiaino di sale. Perfetto. incorporiamo il tutto, così, per bene, piano piano. Io poi lascio ribosare anche per una metoretta in frigo, che quando si usa la farina di sesi. E' sempre buono farla ribosare un po'. Ecco. Comunque, mi mantengo sempre, se non metto molte cose, perché mi piace sentire il sapore della zucca. magari un po' di prezzemolo, se ce l'avete, erba cipollina, quella ci andrebbe. Ok. Praticamente sono 250 grammi in tutto, fra ciocchi di avena macchinati, che li ho macchinati io, li faccio a farina, volendo li potete mettere anche in serie. Allora, 150 grammi di ciocchi di avena e 100 grammi di farina di sesi. Questo è tutto. Ok. Ci metto anche un po' di formaggio, grano nel mio caso. Ok, questi sono due o tre cucchiai, a piacere comunque. Un po' di pego, sì, ci va. Il pego ci va sempre. Ok. Ok. Ecco qua. Anche un po' di babbrica dolce, che metto. Ok. Ecco, basta così. Ci mettiamo ancora ci va. Incorporiamo la farina. Ripeto, farina di sesi e farina di avena. ecco qua. Ecco qua. Mettiamola tutta che va. Ok. Penso che va bene così. Adesso le lascio di mostrare una metoretta in fico, come minimo, anche di più mostrare. Ok. E poi formiamo le nostre polpette. O come volete, la forma anche schiacciatine, tipo hamburger. possiamo andare. Ecco. Ok. Adesso le mettiamo in fico per una maggioretta. Tascosto 30 minuti. Abbiamo formato le nostre polpette. Imburriamo, imburriamo io con olio, io metto un po' d'olio d'oliva sulla teglia. Ok. E le mie polpette, perché l'impatto risolta comunque morbido, io le giro nei tocchi di avena. Vedete? E questa è la nostra polpette. Così. Con l'aiuto di un cucchiaio. Ok. Voi potete fare la forma che volete. Io le faccio, oggi le faccio così. Con i miei modi faccio le polpette. Ecco. E le nostre polpette sono pronte per essere infornate per una 25-30 minuti. Forno statico a 200 gradi. Ok, amici. Questo è tutto. Ma come attuale la linea non è precisa, vengono quelle grosse e quelle piccole, ma non fa niente. Tanto. Ok. Ecco. Un impasto morbido, ma così deve essere, se no poi vengono così. Vedete? E si formano facilmente le nostre polpette. Potete fare le più piccole, più grosse, come volete. Anche schiacciarle un po'. Anche così vanno bene. Anche schiacciate vanno bene, poco a poco. Ok. 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 Le nostre polpette bastano in forno per 25-30 minuti. Forno statico a 200 gradi. Io sto già mangiando, ho già assaggiato. Buonissime. Sono venute proprio bene. Questo è già. Ok. Tanto ringrazio tutti per la visione. Vi vediamo nel prossimo video. Vi iscrivetevi e condividete il prossimo video. Ciao ciao a tutti. Buon appoggio a tutti. Ciao al prossimo video.